Tutti gli effetti, giurando sulla Costituzione. Un commento su questo tipo di scelta. Sono tanti anni che sono in Italia, nove anni a Cuneo e ho fatto questa scelta perché mi presento Cuneo, casa mia, vivo qua con mia famiglia e le mie bimbe e ci troviamo bene e vogliamo restare in Italia per il futuro. E allora abbiamo fatto questa scelta e sono molto orgoglioso e molto contento di averla fatta.